Sì, è vero, venivamo da due partite difficili, ma la risposta di oggi è stata brillante, straordinaria, un'ottima partita, un primo tempo eccezionale, in cui credo che la Roma abbia vattuto un record, era dal 1931 che non segnava 5 gol in soli 45 minuti, Edin ha stabilito un ulteriore record per la Roma di gol, però ecco, soprattutto vorrei sottolineare la prestazione collettiva davvero straordinaria e fantastica della squadra. Sì, senza alcun dubbio, è attraverso il collettivo che si rende la Roma più forte, abbiamo tante partite, anche se è vero che non abbiamo tanto tempo per allenarci, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere e per rendere questo collettivo della Roma sempre più importante, c'è ancora bisogno di lavorare, abbiamo del tempo ancora davanti, non abbiamo ancora vinto niente, ma questa è la strada da seguire per ottenere qualcosa di importante in futuro. È una partita che abbiamo preparato così, anche per le caratteristiche dell'avversario, che è una squadra che marca individualmente molto forte e quindi volevamo giocare uno o due tocchi e poi subito palla in profondità. Non siamo sorpresi perché noi che lavoriamo quotidianamente con questa squadra sappiamo che in qualsiasi momento può scattare qualcosa che ti permette di giocare una partita quasi perfetta come quella di oggi, ma la prestazione è stata molto positiva anche contro il Sassuolo, abbiamo giocato un'ottima partita, purtroppo non abbiamo segnato e sono state fatte valutazioni magari un po' diverse, ma tatticamente la squadra è stata perfetta, meritavamo la vittoria, oggi abbiamo dato un'ottima risposta, un primo tempo davvero molto buono, ma nel complesso ecco stiamo crescendo come squadra, nei comportamenti, nella comprensione del gioco, serve ancora un po' di tempo per far crescere i giovani, ma il futuro sono sicuro che sarà sempre migliore. Grazie a tutti.